condiviso la settimana scorsa a Rochester e il messaggio ha a che fare con le luce, con la luce e le tenebre. Viviamo giorni in cui si parla spesso e si dice che le tenebre avvolgono la nostra vita e partendo con voi da un verso del Vangelo di Matteo al capitolo 5 al verso 14 vorrei attraverso questa parola scuotere la vostra vita e ricordarvi quello che Gesù dichiarò ai discepoli e a quelli che lo ascoltavano e ciascuno di noi oggi deve lasciare questo posto con questa parola che echeggia nella sua mente nel suo cuore che ancora infiamma la propria anima e sono le prime parole del verso 14 del capitolo 5 Vangelo di Matteo voi voi siete la luce del mondo sorella fratelli voi siete la luce del mondo come si fa ad illuminare il mondo se guardiamo alla nostra condizione se guardiamo alla nostra persona potremmo raffigurarci a un faro nel buio della notte posto nel mezzo delle acque per dirigere le navi in difficoltà ma possiamo essere delle torce in un buio a greste in una caverna ma possiamo essere delle semplici lampade o delle lampadine qualcuno potrebbe dire ma io non sono né un faro né una torcia né un lampione per le strade non sono neanche una lampadina forse sono un lume o addirittura una candela quel che conta e che anche se sei solo una candela e che questa candela sia accesa ci sia una fiammella su questa candela perché la scrittura il signore ci ricorda che egli non spegne il lucigno fumante a volte questa fiammella sembra venir meno ma il soffio dello spirito di dio non la spegne ma la ravviva la intensifica è un uomo a noi molto caro il re davide nel secondo libro di samuele al capitolo 22 verso 29 fa questa preghiera sì tu sei la mia lampada o signore il signore illumina le mie tenebre sorella sorella fratello non lasciarti spegnere sorella fratello non lasciarti spegnere condizionare dal buio attorno a te perché la scrittura oggi ti ricorda insieme a davide io ti invito a pregare a dichiarare il signore illumina le mie tenebre egli è la lampada infatti noi leggiamo nel vangelo che Gesù dice di sì io sono continuate io sono la luce del mondo e quando il vangelo ci dice voi siete la luce del mondo noi diciamo ma come come possiamo noi illuminare nessuno di noi potrà illuminare neanche una piccola porzione di questo mondo con la propria luce perché l'essere umano è fallace l'essere umano sbaglia in continuazione e che quando possiamo metterci tutto il nostro impegno con la nostra capacità con la nostra bravura con tutto il meglio di noi stessi non riusciremo neanche ad illuminare la nostra vita ma il vangelo ci fa sapere che è Gesù la luce egli è colui che è venuto a illuminare le tenebre della nostra esistenza la sua luce è venuta a dimorare in noi quando noi eravamo ciechi nel nostro peccato nella nostra condizione egli ha aperto i nostri occhi e noi abbiamo cominciato a vedere perché la sua luce ha annullato il buio del nostro essere e oggi quella luce è dentro di me ed è dentro di te e di te possiamo essere luce del mondo se manifestiamo la luce che egli ha posto in noi il testo di matteo che noi non abbiamo completato di leggere aggiungeva una città posta sopra un monte non può essere nascosta similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa quindi cari nella grazia la luce che egli ha posto in noi non deve essere nascosta bando alla vergogna bando alla timidezza fuori le facce toste al profeta geremia lo spirito diceva da parte del signore io renderò la tua faccia dura come la pietra toccatevi la vostra faccia è morbido è bella dura per esporla senza vergogna per dichiarare che gesù è la luce del mondo e infatti il vangelo continua così risplenda la vostra luce davanti agli uomini è il peccato che deve essere nascosto e chi è nel peccato che si deve nascondere ma chi è stato graziato chi è stato rinnovato dall'opera dello spirito santo chi è nato di nuovo e quindi in novità di vita deve compiere buone opere che manifestano al mondo a quelli che ci circondano l'amore e la grazia di dio nessuno di noi potrà mai illuminare l'intero mondo nessuno ma ognuno di noi ha il suo mondo qual è il tuo mondo qual è il tuo mondo la tua vita familiare il posto dove abiti il posto dove vivi il posto dove lavori il posto dove trascorri il tuo tempo ovunque sono i tuoi piedi lì è il tuo mondo non dovrei illuminare il pianeta intero sarebbe impossibile questo compete al signore ma tu ed io dobbiamo illuminare il nostro mondo quello nel quale siamo stati posti e qui dipende da noi tante volte noi limitiamo il nostro mondo soltanto alla nostra persona quello che riusciamo a vedere nello specchio alla nostra immagine riflessa siamo talmente innamorati di noi stessi che tutte le nostre forze le nostre energie si concentrano per migliorare la il nostro aspetto estetico la nostra condizione sociale il nostro ambiente lavorativo ma tutto su di noi alla luce deve illuminare gli altri la nostra vita deve essere un faro nel buio della vita degli altri la nostra vita deve essere una lampada accesa che indica il sentiero a chi ha perduto la retta via la nostra vita deve essere un cartello indicatore che non indica la nostra vita che non indica la nostra chiesa che non indica la nostra comunità che non indica un personaggio che non è un consiglio un'esperienza particolare ma la nostra luce deve indicare la luce del mondo che è cristo gesù è lì dio che noi abbiamo conosciuto attraverso gesù non so quanti di voi avete la consapevolezza esserli dio della luce infatti l'apostolo scrive nella sua epistola dio è luce e questo lo troviamo nelle parti finali del nuovo testamento ma io vorrei farvi notare oggi che lo troviamo anche all'inizio della bibbia la prima pagina della bibbia quindi libro del genesi al primo capitolo al verso 2 dice la terra era in forme e vuota le tenebre coprivano le facce la faccia dell'abisso quindi c'erano le tenebre però dio non sta a guardare infatti la scrittura dice lo spirito di dio alleggiava sulla superficie delle acque sì è vero c'erano le tenebre ma lo spirito di dio si muoveva la presenza di dio si muoveva anche nelle tenebre e in quelle tenebre dio non sta a guardare nessuno pensi mai che dio se ne sta a guardare che dio resti indifferente perché noi dobbiamo continuare la lettura della scrittura e leggiamo al verso 3 dio disse le prime parole che dio pronuncia nel testo biblico la prima volta che noi ascoltiamo la voce di dio nella bibbia c'è scritto dio disse dio disse sia la luce e poi la bibbia giunge e la luce fu questo dice a me dice te che quando dio dichiara o una parola quando dio pronuncia una cosa la bibbia ci ricorda oggi che quello che lui dice accade quando dio dice una cosa succede quando dio promette una cosa la adempie genesi ci dice dio dice ripetetemelo sia la luce e poi la bibbia ci dice quindi fratello sorella se dio ti dice si salvato tu sei salvato se dio ti dice si guarito tu sei guarito perché quello che quello che gli dice lo fa e quando egli pronuncia una parola anche il creato perché il creato è creato perché lo ha creato lui obbedisce e dopo che dio ha parlato e la cosa è accaduta continuiamo a leggere assieme dio vide che la luce era buona se pensavi che quando dio fa qualcosa non fa una cosa buona ti devi ricredere perché quando dio comanda una cosa e quella cosa accade devi sapere che quello che lui comanda tutto quello che lui comanda è sempre una cosa buona e nel momento che vide che la luce era buona dio separò la luce dalle tenebre nel momento che dio compie un'opera il buio è separato dalla luce l'opera di dio manifesta ciò che non gli appartiene e dio chiama la luce giorno e le tenebre notte fu sera tenete conto di queste parole fu sera poi fu mattino primo giorno noi siamo abituati a dire è mattino è la sera ed è finito il giorno invece Genesi ha uno strano modo di misurare il tempo prima fu sera poi fu mattino primo giorno e su questa espressione ci sono diverse interpretazioni io ve ne offro uno a riguardo per arrivare a comprendere perché sera mattina primo giorno se noi immaginiamo che il cielo creato da dio è la nostra parte spirituale mentre la terra è la nostra parte naturale perché in ognuno di noi c'è una parte spirituale e c'è una parte naturale c'è una parte spirituale che non vediamo non possiamo toccare c'è una parte naturale che è la nostra terreneità del nostro corpo della nostra vita e questa terra dice Genesi è deserta è vuota l'esistenza di ogni essere umano prima che venga illuminata irradiata dalla luce di Dio è deserta e vuota e credo che non potete dirmi di no se guardiamo alla nostra vita prima di conoscere il Signore se io ti chiedo com'era la tua vita Genesi dice deserta è vuota deserta per dire arida senza speranza senza vita vuota perché non c'era uno scopo la mia esistenza nonostante tanti impegni aveva come termine la vanità come dice l'ecclesiaste vanità della vanità e tra la terra arida e il cielo della nostra spiritualità ognuno di noi è ravvolto dalle acque sapete quale sono le acque è pur vero che ogni creatura prima di venire alla luce sta nelle acque qualcuno di voi ha forse dimenticato le prime acque che ha conosciuto forse non ce le ricordiamo ma nel momento in cui siamo stati concepiti e nel grimbo di nostra madre si è sviluppata la nostra parte terrene la nostra parte spirituale noi eravamo avvolti dalle acque non te lo ricordi te lo ricordo io eri bello bagnato avvolti dalle acque ma nel momento in cui siamo nati e cresciuti altre acque hanno avvolto la nostra vita i nostri pensieri le nostre convinzioni i nostri giudizi quei pensieri tanto lontani da Dio da non alzarsi dal pavimento ed è su quelle acque che è cominciato a muoversi lo spirito di Dio egli è venuto a cambiare i nostri pensieri nel momento in cui ha detto a te ha detto a me sia la luce come il cieco del Vangelo abbiamo dichiarato ora vedo ora vedo abbiamo cominciato a vedere nel momento in cui abbiamo cominciato a vedere è cominciato il giorno perché prima era notte quando non c'era la luce di Dio quando la grazia di Dio non illuminava la nostra vita era notte profonda ma quando la luce di Dio ha raggiunto la nostra esistenza io lo posso dire credo anche tu con me abbiamo cominciato a vivere quanti di noi contano i giorni della propria vita dal giorno della conversione quanti di noi dicono ero morto ma ora sono vivo non vi distraete stiamo provando a fare una cosa non ci riusciamo adesso lo facciamo la prossima volta ma la parola che sto predicando è per noi qua non tornate a essere permeati dalle acque lasciamo che lo spirito di Dio faccia luce sulla nostra esistenza è cominciato il primo giorno della mia vita e della tua vita eravamo morti ma siamo eravamo morti ma siamo ma gli altri lo vedono qui viene il difficile gli altri lo vedono lascia stare Simone non ti preoccupare gli altri lo vedono rispondetemi vedono gli altri che siamo viventi possono quelli attorno se noi dovessimo portare dei testimoni davanti a un tribunale dove qualcuno ci accusa di non essere all'altezza della chiamata che abbiamo ricevuto che la luce che Dio ha posto in noi non illumina nessuno hai dei testimoni da poter portare davanti a un giudice che possono dire non è vero la luce che nella vita di questa persona ha irradiato la mia vita la luce che nel cuore di questa persona mi è stata di aiuto in un momento particolare ce li avete questi testimoni perché se non abbiamo dei testimoni che possono deporre a nostro favore credo che dobbiamo cominciare a ipotizzare che la luce che Dio ha portato in noi noi l'abbiamo lasciata spegnere e se questa luce si è spenta si è spenta la nostra fede se questa luce è spenta tutte le opere buone che Dio voleva manifestare nella nostra vita noi non le abbiamo ancora realizzato perché pensavamo di vedere ma continuiamo a muoverci nel buio ci sono momenti della storia che sono particolarmente bui ci sono momenti in cui Dio ha bisogno di noi non perché egli non possa fare qualcosa di sovrannaturale ma perché egli vuole che noi manifestiamo la sua divinità non so quanti ricordano il periodo in cui Elia è chiamato ad essere profeta Acab e Jezebel regnavano sul popolo di Dio avevano portato il paganesimo avevano portato il culto delle divinità confinanti e il popolo era caduto in un culto contrario a Dio e quando Dio suscita Elia Elia va da Acab e gli dice l'Eterno davanti al quale io sto Elia va da Acab e gli dice io sono la luce di quel Dio che tu non conosci più la mia vita ti manifesterà che la luce che tu non vedi più io l'ho dentro di me ed è per questo che ti dico che fino a quando io non pronuncerò nuova parola non pioverà più sul paese ecco ecco la forza ecco l'autorità di coloro che sono luce di Dio è un libro deutero canonico il libro del Siracide nel descrivere la storia di Elia dice allora sorse Elia profeta simile al fuoco la sua parola bruciava come fiaccola allora io davanti a queste parole chiedo a me e chiedo a te la nostra parola quando noi apriamo la nostra bocca quando noi pronunciamo il nome di Dio quando noi testimoniamo agli altri siamo una fiaccola o siamo invece della pece del bitume dell'olio incandescente che gettiamo addosso alle persone per fargli del male per accusarli criticarli giudicarli maltrattarli allontanarli da Dio o siamo delle fiaccole che accendono il fuoco dello spirito nella vita delle persone Geremia in un tempo buio per il suo popolo aveva fatto una scelta non voglio parlare più a nessuno Geremia aveva deciso di spegnere la luce di Dio dentro di sé però si deve ricredere perché quella luce è talmente forte che deve dire io non posso trattenermi non posso frenare la mia lingua perché nelle mie ossa brucia il fuoco di Dio cosa pronuncia la nostra bocca quando stiamo con gli altri ma di cosa parliamo di calcio di politica di problemi sociali di Equitalia delle cartelle delle cartelle esattoriali ma di cosa parliamo questi sono problemi che non riusciremo mai a scrollarci di dosso così come Gesù ebbe a dire in un'altra situazione a chi criticava l'offerta di una donna Gesù ebbe a dire i proveri saranno sempre con voi e quel testo dice a noi i problemi saranno sempre con voi perché i problemi sono di questa vita ma questa vita non è altro per noi che è un passaggio nell'eternità di Dio quale fiamma brucia dentro di noi la fiamma della gelosia la fiamma dell'invidia la fiamma della rabbia la fiamma dell'insoddisfazione io vorrei che se ci sono queste fiamme possano in questo momento arrivare i vigili del fuoco di Dio spegnere questo fuoco inutile questo fuoco vano e riaccendere la fiammella di Dio voi siete la luce del mondo non lo potremmo essere da noi se non è lo spirito che arde nelle nostre ossa se non è lo spirito santo a infiammare le nostre viscere se non è lo spirito santo a cambiare i nostri pensieri se non è lo spirito santo a toglierci la quiete del sonno è anche a tormentarci perché lo spirito santo ci tormenta nel momento in cui noi vogliamo fare la nostra vita vogliamo vivere la nostra quiete stiamo voltando le spalle a colui che ha dato il suo sangue per ognuno di noi a colui che ha posto il suo aratro davanti a noi e ci ha detto vieni lavora per me nel momento in cui ci stiamo volgendo e dicendo non ne posso più non lo voglio fare non mi conviene più allora arriva il tormento di Dio perché quando la nostra volontà non è conforme alla volontà di Dio ma io non sento più la presenza del Signore ma mi sembra che Dio mi abbia abbandonato vado in chiesa ma così colì ma 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 non la mia ma la tua volontà sia fatta è la scrittura che ci ricorda come illuminare tutti ci ricordiamo il Salmo 119 la tua parola è una lampada al mio piede e nonostante in cui la parola di Dio illumina i nostri piedi noi inciampiamo cadiamo prendiamo a calci le persone portiamo i nostri piedi lontani dalla sua volontà ma dov'è sta lampada contro là forse è finita sotto le suole o forse è dentro le scarpe forse se state sudando i piedi è perché c'è c'è la luce di Dio dentro le vostre scarpe l'avete nascosta forse dentro ai calzini dentro alle calze io ho conosciuto una lampada nella Bibbia e non è Gesù perché Gesù è la luce del mondo un giorno Gesù parlando con i discepoli di Giovanni il Battista al capitolo 5 al verso 35 dice loro egli era la lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve tempo godere alla sua luce Giovanni il Battista era la lampada ardente e splendente allora vi ho detto che siamo la luce del mondo e vorrei che uscissimo da questo posto non solo convinti ma credendo che noi siamo la luce del mondo e per essere luce del mondo vuol dire che ciascuno di noi deve essere una lampada accesa e allora vi offro la figura di Giovanni il Battista per tormentarvi insieme allo Spirito Santo e qualcuno penserà forse era meglio che te ne stavi dove stavi dire il vero stavo benissimo ma sono dovuto tornare non me ne hanno mandato ma sono dovuto tornare la Bibbia dice che Giovanni era la lampada ardente e splendente ardente e splendente solitamente noi quando pensiamo a una luce ci preoccupiamo che faccia luce e quindi che illumini a noi ci interessa di più di una lampada che sia illuminante quindi che sia splendente ma Gesù dice di Giovanni il Battista lui era la lampada ardente e splendente Gesù prima di splendente mette l'aggettivo ardente vi faccio una domanda facilissima non per provare la vostra cultura ma per provare la mia ignoranza cosa vuol dire ardente brucia come fate a dire che brucia perché emana calore se voi accendete il fornello della cucina e spegnete le luci il fuoco acceso farà luce ma se vi avvicinate al fornello perché non sia un fornello a induzione perché in quel caso non fa neanche luce ma sia un fornello a gas o a metano e ci mettete la mano vicino la vostra mano non vede la luce o avete gli occhi in mezzo alle mani ma sentirà il calore e Gesù dice di Giovanni il Battista lui era la lampada che bruciava e risplendeva questo vuol dire per me e per te cari nel Signore che per essere la luce del mondo noi non dobbiamo solo illuminare ma dobbiamo produrre calore dobbiamo far sentire il calore alla gente perché molti sono nel buio ma saranno ciechi per sempre ma se tu produci il caldo anche chi ha gli occhi chiusi lo avverte il calore è irresistibile il calore va oltre ciò che i nostri occhi vedono e sapete perché Dio vuole lampade ardenti e splendenti non mi faccio sorridere all'iddio che ho conosciuto non piace la luce fredda non gli piacciono le lampadine fredde egli ci vuole fiaccole accese nel tabernacolo il candelabbro era acceso notte e giorno se Dio voleva poteva inventare i led già al tempo di Mosè ma non l'ha fatto quella lampada era ad olio perché doveva fare luce attraverso la combustione doveva bruciare sapete che cosa vuol dire questo anche per noi che affinché gli altri si bruciano della nostra luce noi dobbiamo bruciare il fuoco e sofferenze innanzitutto per se stessi chi è chiamato ad essere una lampada sia una lampadina o sia una torcia accesa ha una caratteristica metto a prova ancora la mia ignoranza cosa hanno in comune una lampadina e una candela ce l'hai la voce si consumano sia la lampadina che la candela hanno un tempo di vita e Gesù dice di Giovanni voi avete voluto per breve tempo godere alla sua luce perché la vita di Giovanni è stata breve il ministerio di Giovanni è stato breve ma nonostante sia stato breve ha bruciato e ha illuminato il suo popolo è quello che spesso noi non vogliamo come figli di Dio è consumarci per la sua causa noi vogliamo risplendere della gloria di Dio ma anziché consumarci diventare sempre più grandi e no non è possibile naturalmente ma anche spiritualmente chi illumina chi serve il Signore chi si mette al servizio di Dio per la causa degli altri questo non ci piace ci dobbiamo consumare ci costa un prezzo ci costa energie ci costa risorse ma Gesù ha dato la sua vita Dio ha dato il suo unigenito figlio e noi non vogliamo dare nulla non è possibile ma quelli che si consumano per Dio entrano nella storia di Dio non c'è profeta più grande di Giovanni il Battista perché il Battista si è consumato il Battista ha dato la sua vita per illuminare non ha avuto vergogna di morire per illuminare nel nome di Dio ha messo la sua testa sotto una lama ed è stato decapitato così come tanti altri nel corso della storia invece oggi nel 2000 passa parte della Chiesa si aspetta che predicare l'Evangelo raccolga applausi che predicare l'Evangelo vuol dire delle cariche pubbliche che predicare l'Evangelo voglia dire andare a governare i popoli per predicare l'Evangelo oggi dobbiamo tornare a essere come Giovanni il Battista a dire la verità a denunciare il peccato ad annunciare il ravvedimento e la conversione nel nome del Signore quando necessario a dare la nostra vita per la causa del Signore solo così saremmo lampade ardenti e splendenti allora per arrivare alla fine vi offro un mix di cose che dovremmo essere per servire il Signore come Lui vuole la nostra vita deve avere luce e calore deve avere testa e cuore deve avere ragione deve riflettere ma deve essere fatta anche con passione pensiero e sentimento studio e adorazione non potete scegliere solo una fila se c'è l'uno ci deve essere anche l'altra se c'è solo una parte siamo mancanti non siamo le lampade che Dio vuole che ciascuno di noi possiamo essere a questo punto non ci resta da fare come fece il Battista perché oggi vogliamo imparare da Lui quando gli andarono a chiedere ma Gesù fa dice racconta opera è tu è arrivato il tempo è arrivato il tempo che egli cresca e che io diminuisca se noi ci consumiamo ci spendiamo sarà sempre maggiore il calore e la luce che faremo nel nome del Signore non vi piace in altri ambienti avrei detto questo passa oggi il convento ma non siamo in un convento se non vi piace è proprio quello di cui abbiamo bisogno perché quando ascoltiamo un messaggio e ci piace quella parola non era per te non era per me ricordatevelo quando ascoltate una parola che vi piace non fa per voi quando non vi piace dovete dire Signore è quella giusta per me aiutami a diminuire affinché tu possa crescere grazie a tutti Grazie a tutti